Ripristinare i collegamenti ferroviari a emissione zero mettendo in connessione tre regioni del sud, la Basilicata, la Campania e la Puglia. E' l'idea lanciata dall'Associazione Onlus, la strada dei fiori, che dopo la costituzione del partnerariato e la firma del protocollo siglato ad Atella domenica 1 dicembre presso Fattorie Donna Giulia, è sempre più concreta e vicina. Un patto di azione tra terzo settore, istituzioni, imprese turistiche e agroalimentari di GTE, Treno Green Experience, sancito nell'ultima tappa dell'animazione territoriale tra Irpinia, Daunia, Vulture, Alto Bradano e Altamurgia. L'incontro, moderato dalla giornalista Paola Saraceno, socia di Fattorie Donna Giulia, nonché co-ideatrice del progetto insieme a Fernanda Ruggero, ha permesso di illustrare un progetto che a breve termine permetterà di proporre pacchetti turistici per visitare oasi e siti di inestimabile valore naturalistico ambientale e culturale lungo la tratta ferroviaria Avellino-Rocchetta-Sant'Antonio-Foggia, oltre che dare sostegno ai comitati civici e alle associazioni che da anni si battono per la riattivazione dell'importante infrastruttura Rocchetta-Sant'Antonio-Gioia del Colle. Il comitato Sinemeto, del quale faccio parte, è un comitato nato a Venosa quasi un anno fa, la cui volontà è la riapertura, il cui sogno più che volontà è un sogno, la riapertura della tratta ferroviaria Rocchetta-Sant'Antonio-Gioia del Colle. Una tratta importantissima, non soltanto perché con i suoi 139 chilometri collega tre regioni e cinque province, ma soprattutto perché è un punto di riferimento importante per quello che è lo sviluppo territoriale, nonché socio-culturale del nostro territorio. Un treno del paesaggio e dei ricordi, dotato di carrozze accessibili a tutti, auspicabilmente costruite ad hoc in ferro sud, nell'area industriale di Matera. La stesura più teste di GTE per la raccolta fondi pubblico-privati a cura della rete prevede già una prima fase pilota da maggio a ottobre 2020, da ripetere nei due anni successivi. Io direi siamo a un buon punto perché abbiamo, credo, circa 80 associazioni interessate, molti comuni, anzi i comuni della tratta sono interessati, dell'Avellino-Rocchetta, dobbiamo e vogliamo inglobare anche i comuni della tratta ancora chiusa, cioè Rocchetta-Gioia del Colle, quindi un bel lavoro, ci aspetto un bel lavoro. Qual è la potenzialità di questa tratta per la Basilicata? Una potenzialità enorme. Il treno potrebbe portare persone con disabilità, potrebbe portare sportivi, potrebbe portare famiglie, scolaresche, turismo di ritorno. E con cui siamo in contatto, anche con la mia Ollus, abbiamo già una grande attenzione da parte di federazioni australiane, svizzere, Canada, New York, quindi confido in un bel lavoro e anche un'ottima riuscita. Un primo punto oggi è il protocollo d'intesa, il prossimo step. Allora, il prossimo step da parte mia è creare un team di lavoro, anche con i ragazzi formati in OMCT per raccogliere materiale proprio per inserirlo nell'app che abbiamo presentato oggi. Rigeneriamoci attraverso la fiducia reciproca, il light motive della moderatrice Paola Saraceno, convinta dell'opportunità di creare posti di lavoro lungo il tracciato di una ferrovia nazionale in gran parte dismessa. Il tutto con obiettivi chiari di connessione, con una paziente opera di cucitura tra imprese turistiche e agroalimentari, associazioni ambientalistiche e culturali, istituzioni locali e nazionali. La Basilicata e la Campania sono più vicine, cercano di avvicinarsi, di connettersi attraverso questo importantissimo progetto. Sì, insomma abbiamo iniziato con Fernando questo percorso perché cercare una rete che mette insieme le associazioni del terzo settore, le istituzioni e perché no gli imprenditori. Diciamo da oggi, avendo firmato insieme anche al sindaco di Atella, questo percorso sancisce un punto di arrivo per adesso. È chiaro che noi dobbiamo interconnettere le nostre realtà che sono quelle dell'Alterpine, della Lucania ma anche della stessa Puglia. Insomma noi viviamo in una zona interregionale, interprovinciale e questo ci dà la possibilità di vivere in una terra di mezzo che ha tantissime opportunità e tantissime bellezze ambientali e no gastronomiche di tipo anche archeologico che vanno assolutamente messe in rete e valorizzate. Con cadenza quindicinale nel 2020 e poi settimanalmente negli anni successivi è in programma l'organizzazione di diversi viaggi esperenziali lungo la tratta ferroviaria che collega l'Irpinia al Vultur eseguendo il tracciato del fiume Ofanto, con prenotazione online anche di escursione a piedi, a cavallo, in bici, visite ai musei, pranzi a chilometro zero, attività laboratoriali in fattorie didattiche e sociali, pernottamenti in agriturismo, B&B, hotel, concerti e manifestazioni. Durante l'incontro Massimiliano in bimbo ha presentato la demo dell'applicativo multidispositivo HARD, sviluppato appositamente per le prenotazioni online di viaggio e esperienze del TGE. Il nostro obiettivo primario è quello di dare questo strumento per il turista che può pianificare un viaggio sulla base dei propri interessi, orari di arrivo, disponibilità di tempi e di budget. Al tempo stesso fornire tutte le informazioni sul territorio, imprese, comuni, eventi e al tempo assisto a guidarlo anche all'interno delle aree, quindi centri storici, eventi stessi come sagre, fiere o anche musei. C'è un aspetto etico di questa app? La nostra filosofia di base è quella di valorizzare il territorio, per noi valorizzarlo non significa soltanto darne una fruizione, ma anche ridistribuire un utile che fondamentalmente manca in le amministrazioni, che è quello appunto che può derivare dal turismo. Quindi tutto ciò che è transato su un territorio, che passa attraverso la nostra piattaforma, noi distribuiamo un fondo cassa per distribuirlo per il restauro di monumenti, realizzazione di opere pubbliche oppure finanziamento di eventi o altro che può contribuire alla crescita di quel territorio, che al tempo stesso contribuisce anche alla crescita del nostro progetto, quindi di arte. Un progetto di rete per lo sviluppo del Vulture. Binari Verdi, una grande opportunità per il Parco del Vulture e per la città di Etella? È una grande opportunità, come abbiamo detto, sia per quanto riguarda il Parco che per quanto riguarda tutta l'area. Questo può essere un grosso volano per un'area che probabilmente negli anni scorsi non ha avuto il giusto interesse da parte un po' di tutti. È inutile adesso fare polemiche, ma probabilmente non è stato dato il giusto interesse e non è stato rivolto il giusto impegno affinché quest'area potesse prendere il volo. A chi dunque l'appello? L'appello è a tutti, alle associazioni, alla politica, a chi vuole dare un pochino di se stessi per poter far ripartire quest'area. Un progetto che necessita una rete importante? La rete è importante e il problema è reperire i fondi, solo alzando la voce un po' da parte di tutte le istituzioni, associazioni, anche i cittadini. Solo attraverso questa attività probabilmente si potrà ottenere qualcosa. Tutti chiamati a dare il proprio contributo di idee in una progettualità comune. Binari Verdi, Green Train Experience, qual è il contributo che può portare la cultura e nello specifico il cinema e quindi il Cine Club? Abbiamo sempre creato e creduto che il cinema o la divulgazione culturale del cinema potesse contribuire ad elevare il livello medio delle comunità, a partire appunto dalle giovani generazioni con le quali abbiamo un ottimo rapporto con le scuole e addirittura con le carceri a Melfi, con la diocesi. Quindi il mio contributo, il nostro contributo, siamo un'associazione fondata da molti anni e raccoglie attorno a sé decine di persone e di giovani, molti dei quali purtroppo vanno via e molti dei quali non rientrano in regione. Abbiamo creduto in questa operazione e grazie all'intervento di Fernanda e di Paola di poter contribuire creando una task force che però si incontri con un certo calendario e porta avanti progetti e quindi incalzando i comuni delle aree interessate a far sì che questi progetti camminino, perché mi rendo conto che i comuni non è colpa loro, devono gestire il quotidiano che è già tanto e con i pochi mezzi che hanno. Quindi creare un qualcosa che sia al di sopra dei comuni e creare questa rete territoriale. Un'opportunità per i territori per dotarsi di attrattori capaci di creare importanti flussi turistici. Buongiorno in tante lingue perché probabilmente quello che dovremmo imparare è intorno alle prologo creare sistema in modo tale che un giorno ognuno di noi possa parlare almeno l'inglese e dare il vero welcome alle persone che vorranno venire nella nostra terra. Abbiamo una terra meravigliosa che ha solo voglia di farsi conoscere, però dobbiamo essere noi gli attori protagonisti per questo progetto. La nostra mission, quella delle prologo, è quella di avviare alcuni lavori in modo tale che i nostri paesi diventano accoglienti, ma soprattutto diano la possibilità con il nostro saper fare con il nostro sorriso, far arrivare la gente non solo dalla nostra Italia ma anche dall'estero. GTE Green Train Experience è un progetto che non solo mette in connessione, mette in rete le varie regioni, ma offre anche la possibilità alle imprese di presentare i loro prodotti. Sì, io sto seguendo questo progetto dalla sua nascita e ho portato l'esperienza fatta in Svizzera dove esiste un treno che si chiama Bernini Express, che è nato addirittura nel 1910, quindi la nostra ferrovia è ancora più vecchia rispetto a questa ferrovia. Questa ferrovia è diventata patrimonio UNESCO, ma soprattutto ha dato la possibilità poi nel tempo di far arrivare la gente in alta quota e far conoscere i paesi. Sviluppo turistico dei territori, ma anche agroalimentare, sostenibilità e ambiente, nell'intervento dell'imprenditore Marco Saraceno, socio di Fattorie Donna Giulia. Binari Verdi e Fattorie Latte Donna Giulia, un binomio perfetto legato dall'essere green. Sì, assolutamente. Tutto quello che serve a comunicare il nostro territorio è sempre attenzionato in maniera importante dalla nostra impresa. E un'impresa, soprattutto dell'agroalimentare, vive, se insiste, all'interno di un territorio chiaramente vocato al rispetto assoluto e totale dell'ambiente. Il treno verde è una grande opportunità per i nostri territori, per il Parco del Vulture. Ma sì, ci vuole questo meccanismo di un cortocircuito virtuoso tra chi genere in camming turistico e imprese dell'agroalimentare. Quindi il treno è sicuramente una buona opportunità per poter comunicare anche quello che le nostre aziende producono.